Ciao amici di Feedback Bianconero, benvenuti per questa nuova pillola. Oggi inauguriamo una nostra nuova rubrica, l'NVP del mese, il miglior giocatore del mese, nello specifico del mese di ottobre, è per noi di Feedback Bianconero, Alvaro Morata, il numero 9 della Juventus. Arrivato con qualche dubbio da parte di alcuni tifosi, in quanto sappiamo bene la telenovela Diego Suarez, Diego Suarez, alla fine è arrivato Morata, per qualcuno era un piano B o un piano C, Paratici ci ha detto che era il piano A della Juventus, ma quello che a noi deve interessare sono le prestazioni sul campo di questo giocatore, un giocatore che ha 28 anni appena compiuta ad ottobre, quindi nel pieno della maturità calcistica e può garantire alla Juventus diverse annate ad alti livelli. Le caratteristiche di Morata un po' già le conoscevamo, ossia grandissima velocità, abilità con entrambi i piedi nel calcio, abilità nel gioco aereo, capacità di giocare anche partendo dall'esterno, generosità, altruismo forse anche troppo a volte, però è anche un giocatore che è migliorato in alcuni fondamentali, quali quello della protezione della palla spalla alla porta. Sa giocare bene con i compagni, sa anche fornire degli assist, ma ha anche evidenziato una serie di caratteristiche che possono un po' ricordare per certi versi quello che era Filippo Enzavi, ossia quello di giocare sul filo del fuorigioco, da qui anche vari gol annullati, mi sento di dire un po' per sfortuna, un po' per colpa, ma più per sfortuna, davvero per un alluce o per un tallone come si suol dire, mentre vi è anche una grandissima capacità del giocatore di essere rapace d'aria, tanti gol davvero numero 9, i gol sulle seconde palle, i gol sulle ribattute, i gol di anticipo sul difensore avversario, i gol dove il giocatore crede in un pallone che magari può tagliare l'aria, va con grande velocità e quindi fa gol che potrebbero sembrare semplici, che alla fine sono anche semplici nella loro esecuzione, ma vi è tutto un movimento dietro una capacità di lettura del gioco non indifferente e va evidenziata. Vi è un riempire l'area di rigore, che era quello che era mancato soprattutto l'anno scorso alla Juventus, vi è una certa personalità che questo giocatore sta evidenziando e qui noto almeno in questo primo scorcio di stagione dei miglioramenti dal punto di vista della personalità e caratteriali, perché io sfido chiunque a reagire dopo tanti gol annullati, Morata non ha battuto ciglio, ha continuato a segnare e ne sta raccogliendo i frutti anche a novembre. Chiaramente il nostro è un giudizio parziale, ma oggi non può che essere assolutamente positivo, è un titolare inamovibile in casa bianconera, lo vedo benissimo in tandem con Cristiano Ronaldo in quanto abbiamo anche due attaccanti veloci che possono attaccare l'aria in verticale, l'aria è piena, vi è una presenza fissa da parte di questo giocatore, vi è anche una grande capacità realizzativa e una personalità anche nel trascinare la squadra in momenti di difficoltà e nell'aiutare la squadra in fase difensiva con ripiegamenti. Un centro avanti completo. Se Morata mantiene questi standard e può solo migliorare perché ha 28 anni può ancora migliorare, io direi che la Juventus ha trovato il suo numero 9 a un giocatore che in effetti non sta facendo altro che andare a rispondere a quelle che erano le aspettative di quando aveva 21-22 anni, tutti quanti, o almeno io personalmente, mi aspettavo Morata in auge negli anni a venire come tra i migliori numero 9 del palcoscenico europeo. Quindi non dobbiamo neanche essere tanto sorpresi per quelle che sono le qualità tecniche e fisiche del giocatore, ma era più un dubbio sulla tenuta mentale dello stesso. Al momento sta rispondendo presente e siamo contentissimi. Per questo quindi Morata non solo per i gol fatti, ma ancora di più per le prestazioni, per la continuità di prestazioni che ha fornito nel mese di ottobre, che io direi sta mantenendo anche a novembre, è sicuramente il nostro MVP. Io sono stupito parzialmente perché comunque sono sempre stato un grande ammiratore di Morata, ma devo dire che nelle le ultime stagioni sicuramente era stato a volte discontinuo e non era stato appunto così forte come presenza in campo, a mio giudizio. Questo nuovo Morata mi piace ancora più del vecchio, chiedo a voi se siete stupiti, se siete d'accordo con la nostra scelta di votarlo e selezionarlo come miglior giocatore in casa bianconera del mese di ottobre, per me è stato il migliore in campo in quasi tutte le partite, quindi con questo giro la palla a voi, votate il vostro miglior giocatore del mese. Ci vediamo chiaramente con le prossime dirette, le prossime pillole e un abbraccio da Feedback Bianconero. Ciao!